Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo del cantante mascherato, prima puntata svelata l'identità del baby alieno. E andati in onda, la prima puntata della nuova edizione del cantante mascherato, lo show di Rai Uno condotto da Milli Carlucci, che dopo gli ascolti dello scorso anno ha deciso di tornare anche quest'anno con nuove maschere da scoprire. Nella passata edizione a vincere è stato il coniglio e sotto alla maschera c'era Teoma Muccari. Quest'anno Milli invece ha deciso di portare in scena ben nuove maschere e non solo, ha anche un po' rivoluzionato la giuria. Infatti quest'anno a fare da giuria ritroviamo Patti Bravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e due new entry, apprezzatissime dal pubblico che sono Costantino Della Garadesca e Gatterina Balivo. Ma andiamo alla puntata, ad aprire le danze e la farfalla che canta mentre tutto scorre. Per la giuria è una professionista del mestiere, ma i nomi che hanno dato non mi convincono e per ora a me sembra dolce nera, ma devo studiarla ancora un po'. I giurati dicono Simona Ventura, Giosquillo, Sabrina Salerno, Silvia Benzanotte. Anche quest'ultima potrebbe essere. Seconda esibizione per l'orsetto, che canta andava a cento all'ora. La giuria ha dato vari nomi, da Gil Rocca a Cristina Davena e Letra Lamborghini, ma nessuno di questi nomi mi sembra azzeccata. Forse Facchinetti con Valentino Rossi mi convince un po'. Terza esibizione, il lupo e canta i Giardini di Marzo. Subito ho detto Gigi D'Alessio, nome che la giuria ha anche detto. Altri nomi fatti invece Riccardo Fogli e Coet. Quarta esibizione, il Baby Alieno, che ha cantato un remix su canzoni che riguardano la Luna. Io non ho trovato un nome, ma anche io come il web penso che siano in due. Mentre la giuria ha fatto nomi di Enrico Papi, Platinet, Beppe Fiorello. Quinta esibizione, la Pecorella. Anche qui non so chi possa essere all'interno della maschera. Elco ha alcuni nomi fatti dalla giuria. Loretta Goci, Francesca Fialdini, Manuel Arguri. Sesta esibizione, la Tigra azzurra, che canta l'immensità. Quest'anno devo dire che non riesco a trovare subito i possibili nomi. La giuria fa i nomi di Geppe Kenyo, Max Giusti, Walter Zenga. Quest'ultimo è un nome impossibile, perché chi segue attentamente il grande fratello Vip sicuramente avrà visto il confronto che c'è stato in contemporanea con l'esibizione di Walter Zenga e suo figlio Andrea, nella casa più spiata d'Italia. Settima esibizione, il Gatto, che canta Smooth Criminal di Michael Jackson. A me sembra Bugo, ma per ora non do certezza. La giuria fa il nome di Francesco Faccina, Giampiero Ingressia, Clementino e Francesco Monte. Ottava esibizione, la Giraffa, e canta Roma Bangkok. A me sembra Fiordaliseo e Katia Ricciarelli. Per la giuria Rita Pavone, Vladimir Luxuria, Ambra Angiolini, Donatella Rettore. Non esibizione, il Pappagallo, con The Greatest Show. Niente, anche qui il buio totale, mentre la giuria ha fatto il nome di Morgan, Christian De Sica, Alessandro Preziosi e Alessandro Gasman. Il Pappagallo è stata l'ultima maschera a esibirsi. Al duello finale vanno Peccorella e Baby Alieno. E a scegliere il vincitore è il Web. Ma durante l'esibizione del Baby Alieno qualcosa va storto. E quindi l'alieno di sua spontanea volontà decide di smascherarsi. E sotto la maschera c'erano i ricchi e i poveri. E voi? Avete visto già la prima puntata e sapete darmi già qualche nome di chi si nasconde nelle altre maschere? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video. Se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red. Grazie a tutti.